De Cherubini per un attimo forse ha pensato anche di calciare, lo fa adesso, Cherubini passa la Roma al minuto 48, gol pazzesco, 1-0 Roma. Occhio a Tocci in area di rigore, Tocci! C'è una regola nel calcio che non è scritta ma esiste, gol sbagliato, gol subito, segna invece al primo tiro in porta la Fiorentina, Elion Tocci, minuto 14, viola avanti. Sul secondo palo cerca una sponda che c'è e poi arriva di gran carriera e il pallone che si infila sotto l'incrocio per il vantaggio del Lecce, il gol messo a segno da Dacca che arriva come un serpente dentro l'area di rigore. Mentre Napoli in avanti, c'è Vergara con il tacco, poi il sacco col mancino! Napoli in vantaggio, Vergara, Tagocchino, sacco, la combinazione questa volta è vincente e insulta la banda di Frustalupi. Cerca per alta, bisogna andare in mezzo, il dazza cacaccia del pallone, Guarino tocca e pareggia i corti all'avvento quattrentimo minuto di gioco, entra in campo e pareggia il Guarino. La festa per il Napoli e Guarino con gli occhi chiusi incrocia le dita e la spinge in porta.